Buonasera e benvenuti a Pole Position. Questa sera mi presento l'Assa Abloy Entra System e lo facciamo in compagnia del direttore generale Mauro Cavazzoni. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie caro direttore generale. Lei è la prima cosa che mi ha detto entrando qui. Dice noi sentiamo l'Anna Falchi un po' dei nostri perché parliamo di un'azienda la cui fusione nasce nel 1995 da due aziende che è la Assa svedese e la Abloy finlandese. Com'è questa storia quindi? Sì queste due aziende erano due aziende diciamo nel settore delle serrature meccaniche e si sono fuse costruendo una prima realtà diciamo forte in Scandinavia che poi è diventata via via sempre più forte in tutto il mondo con acquisizioni anche importanti. Oggi è una multinazionale a tutti gli effetti, una di quelle grandi grandi insomma 50 mila dipendenti, 9 miliardi di fatturato quindi situazione diciamo davvero multinazionale però è nata così come è raccontato. No infatti era buffo perché si sentono pochissime cose che provengono diciamo dalla Scandinavia perlomeno qui in Italia perché comunque noi vantiamo tantissime aziende importanti. Lei mi diceva che addirittura dice se va in Finlandia il 90% dei prodotti sono firmate a Abloy così come in Svezia insomma in Scandinavia Assa Abloy. Qual è la clientela appunto di riferimento? Noi ci occupiamo di una divisione della Assa Abloy che essendo multinazionale molto grande ha tante divisioni e in particolare io mi occupo della Intran System quindi della parte degli ingressi automatici quindi porto automatiche pedonali piuttosto che anche i portoni più grandi per le merci. I nostri clienti sono quindi praticamente tutti quelli che hanno bisogno a porto automatica con un supermercato, un ospedale, un hotel con una bella girevole magari un po' lussuosa ma anche tutta il mondo della logistica dove ci sono le baglie di carico ogni pacchetto che riceviamo oggi a casa è partito comunque da un magazzino e ha dovuto attraversare una baglia di carico dove ci sono i nostri prodotti. Infatti uno dei punti di forza di Assa Abloy Entrance Systems è proprio il fatto che è a filiera completa quindi partiamo dalla progettazione all'installazione ma anche l'assistenza. Sì, altro che noi partiamo con gli architetti che cerchiamo di aiutarli nel scegliere il prodotto più giusto ma il service è un asset importantissimo del nostro modello di business. Noi facciamo service non solo tra l'altro sui nostri prodotti ma a tutti i clienti che hanno bisogno di fare assistenza sia preventiva che riparazioni su tutto ciò che ha una porta automatica. Porta e portone. La vostra filosofia nell'azienda io vedo qua segnato che c'è una frase molto bella che è la cultura batte sempre la strategia. Esatto, su questo ci crediamo molto. Nel senso la cultura che cos'è? Sono i valori condivisi di un'azienda. Quindi un'azienda che ad esempio non ha paura di cambiare. A Sabloy essendo cresciuta così tanto è un'azienda molto dinamica che è in continuo cambiamento e anche le persone che lavorano da noi non hanno paura di cambiare. Quindi se c'è una cultura aziendale noi saremo sempre più forti e trasferiremo la nostra passione alla clientela. La strategia poi i direttori generali ci giocano. Aggrediamo questo mercato, quest'altro. Diciamo che poi lascia il tempo che trova perché la cultura vincerà sempre. Quindi se io ho uno staff forte come quello che ho, che è quello che ho apprezzato poi dalla nostra clientela, con questo staff io sarò sempre vincente. La strategia invece a volte si sbaglia. No, infatti abbiamo parlato appunto di valori. Sicuramente la sostenibilità ambientale è un valore a cui tenete molto anche voi. Sì, la sostenibilità è importante anche, ripeto, negli ingressi, quindi fare un ingresso coibentato in un modo. Poi la porta automatica mi lasci dire che è sempre sostenibile. Se si fa un giretto, non so, estate e inverno nel centro di qualche città italiana, vedrete tutte le porte sempre aperte nei negozi. Porta aperte spalancate, no? Quindi magari fuori c'è meno 5 e dentro invece ci devono essere 20 gradi o viceversa, fuori ci sono 40 gradi e dentro c'è l'aria condizionata. Porta aperte, energia che esce a tutto spiano. Nei Paesi Bassi invece, intanto per fare un altro esempio, c'è una legge che dice che le porte degli negozi che danno all'esterno devono essere automatiche, in maniera tale che si chiudano quando uno è passato. C'è anche a Milano, c'è un'ordinanza del Comune di Milano. Chi meglio di lei che rappresenta la Sabloy Entrance Systems ce lo può dire. La sostenibilità è anche questo, quindi non è tanto il prodotto che poi abbiamo tutte le certificazioni di questo mondo, l'ID, eccetera. Però è anche, tornando alla cultura, la cultura di costruire o di progettare un negozio pensando anche alla sostenibilità ambientale. Io ringrazio Mauro Cavazzoni per essere stato qui con noi e per averci fatto entrare, nel vero senso della parola, nella vostra azienda Lassa Abloy Entrance Systems. Grazie. Grazie a lei. E Polposition è ancora in vostra compagnia se voi naturalmente volete rimanerci. Grazie a tutti.